Copax presenta 5 cose che non sai sulla zealandia buona visione il settimo continente sono sette i continenti terrestri e non sei come si era ritenuto finora il nuovo continente secondo i ricercatori è infatti la zealandia la sua formazione la zealandia è formata dalla nuova caledonia le isole norfolk e l'isola di lord o la grandezza la zealandia è un'area di quasi 5 milioni di chilometri quadrati più o meno la stessa grandezza del subcontinente indiano è sommersa per il 94 per cento dall'oceano pacifico e si trova intorno alla nuova zelanda la sua età questo continente si formò nel paleozoico e occupava gran parte dell'emisfero meridionale fino a quando non si è divisa per poi sprofondare tra 60 e 85 milioni di anni fa la scoperta gli scienziati discutono dell'esistenza della zealandia da una ventina d'anni il primo osale termine era stato geofisico bruce lui andy nel 1995 adesso nick mortimer e la sua squadra ritengono di averne dimostrato definitivamente l'esistenza se il video ti è piaciuto lascia un like un commento e iscriviti al canale se non l'è ancora fatto condividi questo video con i tuoi amici noi ci vediamo al prossimo video